Sono stati mesi fantastici, peccato per come sia finita, è stata un'emozione unica vestire questi colori. Poco più di tre mesi fa Andrea Beghetto salutava così Perugia dopo aver indossato per metà stagione la maglia della squadra dove giocò suo padre Massimo e ora è pronto a tornare. Sarebbe infatti lui il rinforzo per la fascia sinistra che il direttore sportivo del Grifo Marco Giannitti cerca dopo la cessione di Dichiara. Nella scorsa stagione Beghetto ha collezionato 18 presenze in bianco rosso, impreziosite da due assist, entrambi realizzati a favore di Christian Kwan. Il primo ha propiziato il gol del momentaneo vantaggio nella gara interna contro la Spal del 16 marzo. Il secondo ha aperto, grazie al preciso colpo di test del Livoriano, la sfida play-off di Brescia. In carriera Beghetto ha collezionato 30 presenze in Serie A e 129 presenze in Serie B. Il Perugia avrebbe già trovato l'accordo con il Pisa e il calciatore sarebbe ovviamente ben contento di tornare in Umbria, un'operazione che sembra dunque in fase di definizione.